Allora, la situa è questa, quindi siamo da due, allora, è uscito Poli, è entrato Orsolini, sì, 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 come potete vedere ha segnato Santander, Danilo e doppietà Ludic, sì, quindi grande Danilo, grande Santander, buona direi, perché ormai siamo all'ottantacinquesimo, si spera sempre in una vittoria fino all'ultimo e niente, quindi se non ci sono rivoluzioni, questo è il risultato.